Pronto? Ehi? Che ti succede? C'entra quell'Igor? Mi sento pronta. Per cosa? Voglio andare a letto con lui. Io vado a controllare l'auto. Sì, vai, vai. Sicura che è quello giusto? Tu no? Non lo so. Che sei del ragazzo? Ha senso dell'umorismo. Oltre a un corpo muscoloso. Sì, vai. Sì, vai.